Cari amici e fratelli, pace del Signore Gesù, ben ritrovati anche oggi all'appuntamento con i culti della Nuova Era, cioè quelli registrati nella nostra comunità a partire dal 9 settembre 2001. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto nella pace del nostro Signore Gesù. Alleluia, noi ti vogliamo anche questa sera adorare, Signore, e ne siamo felici perché non siamo soli, Signore, nell'adorarti e nell'onorarti, ma questa sera siamo, Signore, insieme, uniti agli angeli tuoi del cielo, a tutto l'eserciuto celeste, alleluia, perché io, Signore, tu sei lì, Dio, l'onore di Dio nostro, alleluia, 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 Dio, Signore, gradi e riconoscenti, vogliamo, Signore, onorare il tuo Santissimo nome. E insieme a te, Gesù, colui che ci ha salvati, sì, Signore, perché per mezzo di Lui ci hai fidato la vita, quella vita che avevamo persa, Signore, per mezzo di Lui ci hai risuscitati spiritualmente, alleluia, gloria, al tuo nome, e Lui ci hai ridato l'eternità perduta, Signore, appunto, che avevamo perduto nel giardino dell'Eden. Quindi grazie, Padre, a te, a Gesù e allo Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen, alleluia, amen, amen. Amen, alleluia, amen, amen. Amen, alleluia, amen, amen. Dammi la mano per la mia, io trovo al dita verso il bene. Dammi la mano fino al fine, quando ti un pezzo scriverò. Sento che già vicino al giorno, io mi ritrovi a nuova Padre, ma mentre attento il tuo ritorno, da che ti serve a nuova Padre, ma che ti serve a nuova Padre, e il tuo corpo è il tuo tuo ritorno, da che ti serve a nuova Padre, e forniti al tuo ritorno, e il tuo ritorno. Ma come muovete in un sol, dammi la mano per la via, io trovo al tigra verso il bene. Dammi la mano fino al fine, quando più presto ti vedrò. Alleluia, amen, alleluia. E se Gesù dimora nel nostro cuore, non saremo noi a dire, a fare, cioè a parlare, ma sarà sempre Lui, Gesù, lo Spirito Suo a guidarci. E allora, vedete, noi stessi riconosceremo che quello che abbiamo fatto, di buono, quando facciamo qualcosa di buono, non siamo stati noi in fondo, è stato il Signore. E la gloria va sempre a Lui. Perché come ha detto agli apostoli, dice, senza di me non potete fare niente. Alleluia, amen. Quindi se noi, noi sapete, c'è una cosa che sappiamo fare bene, il male. Chi lo sappiamo fare bene? Perché nasce con noi, il male è nato con noi, e prima che un stratagammo ci vuole, manco accannonate, neanche la morte. Perché? Perché effettivamente, fratelli, chi non permette al Signore di togliere il marcio, il male, mentre noi siamo in vita, quel male accompagna l'essere umano fino alla morte, oltre alla morte. Vedete? Quindi come il male è inseparabile, e come il male inseparabile, inseparabile è anche il bene, l'amore. Amen? Alleluia. Benvenuto sia l'altissimo. Alleluia. E così vogliamo passare alla lettura della parola del Signore come l'ha stabilita. Alleluia. Ah, sapete cosa volevo dire? Glorie a Dio. Che il Signore me l'ha fatto ricordando. Una cosa. Io porrò inimicizia tra te e la donna. Come diceva la nostra... Dicevo io che non mi suonava buono perché tu la progenera mezzo a mezzo. era il tuo seme, che è appunto che il seme, Maria non aveva seme, non ha seme, la donna non ha seme. No? Quindi allora... E... Lì per lì io vi ho detto... A questo punto posso dire che io vi ho detto... Perché ci sono le cose che dice il Signore... Io vi ho detto che sarebbe stato più giusto dire... Ciò che nascerà da te, io parlo inimicizia tra tutto ciò che nascerà da te, rivolgendosi al serpente, e ciò che nascerà dalla donna. Insomma, è giusto, e sarebbe giusto. Però è troppo lungo, per dire... Come si dice, foneticamente, non suona buono all'orecchio. No? Ho detto, Signore... Eppure questo qui... Questo fatto... Io da questa Bibbia, stai suonando... C'ho perrore. Ah, il Signore effettivamente... Il Signore mi ha dato... Quello di non indurci in tentazione... Ameno? E che poi il Signore invece... Ci ha detto... Preservaci dalle tentazioni. Quindi la frase più corretta è... Preservaci dalle tentazioni. Allora, sapete... E questa volta sono sicuro che è stato il Signore ecco... Perché infatti è stato un attimo, come un flash. Ed io... Guardate qual è il coso... Ed io... Porrò in nemicizia... Disse al serpente... Fra te e la donna... E fra il tuo frutto e il suo frutto... E fra il tuo frutto e il suo frutto... Cioè ciò che tu produrrai... E ciò che lei produrrà... Perché il frutto è il prodotto che... Dell'albero... Due semi tutto sommato... È vero... E poi il Signore per darmi la conferma... Eh? Subito dopo mi ha fatto ricordare... Che Elisabetta ha detto a Maria... Benedetto il frutto del tuo seno... Allora... Vogliamo leggere... Nell'Apocalisse capitolo 5... Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono... Un libro scritto di dentro e di fuori... Sigillato con sette sigilli... E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce... Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno né in cielo né sulla terra né sotto terra poteva aprire il libro e guardarlo... Io piangevo forte... Perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro... E neppure di guardarlo... Allora uno degli anziani mi disse... Non piangere... Ecco il leone della tribù di Giuda... La radice di Davide... Ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli... Poi vidi ritto in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani... Un agnello come ucciso... Il quale aveva sette corna e sette occhi... Che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra... Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono... E quando ebbe preso il libro... I quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello... Avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi... E cantavano un nuovo cantico dicendo... Tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli... Perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù... Lingua, popolo e nazione... E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio... E regneremo sulla terra... Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono... Agli esseri viventi e agli anziani... Il loro numero era di miriadi e di miriadi e di migliaia e di migliaia... Che dicevano a gran voce... Degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze... La sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione... Udi ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra... E quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi... Che diceva a colui che siede sul trono e dall'agnello... Siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli... E i quattro esseri viventi dicevano Amen... Ed i ventiquattro anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli... Alleluia, Amen... Alleluia... E sia glorificato il Signore anche questa sera... Per ubbidienza ho letto dove il Signore mi ha ordinato da leggere... Alleluia... E... E' bello... Da una parte... Non è tanto bello dall'altra... Nel senso... Per me... Perché... Leggere... E... Vedete... Quello che il Signore mi ordina da leggere... Senza sapere quello che... Si deve dire... Non è bello... Umanamente parlando... E' bello... Perché poi una volta che il Signore incomincia a spiegare... A farmi parlare... Allora uno apprende... Io per primo e poi... Successivamente... Poi... Tempestivamente possiamo dire... Voi... Perché... Sono... Frazione di tempo... Proprio... Perché... Il Signore mi dà un istante prima... E subito... Io... Traduco... Quello che il Signore... Mi mette nella mente... A me... Io traduco con le mie parole... Per farmi capire da voi... A me... Perché... Dice... Io traduco... Lo spiego subito... Cos'è stato andato... Il Signore mi ha dato un esempio... Bellino... No... Non è bellino... È bellissimo... Ehm... Per esempio... Se io... Se io fossi... Un inglese... No... Il Signore mi parla... Che... Mi fa... Diciamo... Mi parla in inglese... Alleluia... Ecco... Mi dà... Con il suo spirito... Mi dà... Da capire... A me... Secondo... Ma lui non è che parla in inglese... Perché... Per esempio... Perché... Contemporaneamente... Seguitemi... Attende... Perché... Contemporaneamente... Il Signore... Eh... Potrebbe parlare... Ad altri... Suoi servitori... In questo momento... Che si possono trovare... A qualcuno... A Messina... In altre città... In tutto il mondo... È giusto... Perché... Non è che... Il Signore... Direbbe... Aspetta... Perché... Per due ore... Io... Devo parlare... Con il mio... Figliolo... Con il mio... Figliolo Nino... Figliolo Nino... E allora... Rilassare... Quindi... Il suo spirito... Amen... Quindi... Investe... Tutti quelli... Che lui... Usa... In quel momento... Per esempio... In questo momento... Amen... Allora... Poi... Ripeto... Allora... Lo Spirito Santo... Ha un unico linguaggio... Per tutti... Poi siamo noi... Eh... Che... Effettivamente... Traduciamo... Nella nostra lingua... Il linguaggio dello spirito... Che scendiamo... Tutto profondo... E più parliamo... E più difficile... E più non ne capiamo... No... Dobbiamo capire... E allora... Eh... Non sta scritto... Che... Quando io parlassi... Le lingue degli uomini... O le lingue degli angeli... Se non ho... Amore... Non la mi giova... Amen... Vedete quindi... Il parlare degli angeli... È proprio il parlare spirituale... Come Dio... Si esprime... E parla con gli angeli... Come il padre... Parla con il figlio... E il figlio parla col padre... Non è che il padre ci parla in italiano... O in italiano... O in francese... Al suo figliuolo... Loro hanno un linguaggio spirituale... Quindi... Questo linguaggio spirituale... Vedete... Allora... Viene... Automaticamente... Vedete... Eh... Grazie a Gesù... Alleluia... Ecco... Vedete la tecnologia... Se non vado errato... Eh... Qualcuno che ne sa più di me... Mi confermi... Se non vado errato... Mi pare che... Eh... Ci sono... Non so come si chiamano... Dei programmi... Qualcosa... Che... Eh... Ho delle apparecchiature... Che traducono tempestivamente... Eh... Per esempio... Una lingua in un'altra... No... Traduttori simultanei... Eh? Traduttori simultanei... Traduttori simultanei... Esistono, no? Sì... A me... Gloria a Dio... Quindi... Ci sono... Sono... Eh... Ecco... Allora... Il Signore mi ha dato da capire questo... Si è glorificato il suo Santissimo... Quindi... Lui parla... Eh... Con il suo linguaggio... Linguaggio spirituale... No? Allora... Eh... Lo Spirito Santo... Eh... A secondo... Con chi sta parlando... Traduce simultaneamente... In quella lingua... Ecco perché io lo capisco... E contemporaneamente... Lo potrebbe capire un altro... Che il Signore sta dando... Anche un altro messaggio... Non necessariamente... Lo stesso messaggio... La stessa lettura... Amen? Quindi avviene questo... La cosa simultanea... Amen? E tutti lo comprendiamo... Alleluia... Amen? Eh... Vedete... Ecco... Questo... Eh... Si è glorificato il Dio... Perché noi oggi... Riusciamo... A capire... In piccola parte... Questo... Grazie sempre... A quella rivelazione... Delle origini... Delle sue origini... Il suo spirito... Alleluia... Amen? Perché altrimenti... Noi non potremmo... Né spiegare... Né capire... Questo... Alleluia... Amen? E allora... Guardate... Come... Effettivamente... Anche in questa circostanza... Fratelli... Io manco... Volei a dire... Però... Giustamente... Il Signore... Ma... Io... Non posso... Disubbidire... Anche in questo... Guardate... Si è glorificato il Dio... Dice... Chi è degno... E vi dice... Un angelo potente... Che proclamava a gran voce... Chi è degno di aprire il libro... E di sciogliere i suoi sigilli... Ma nessuno... Né in cielo... Né sulla terra... Né sottoterra... Poteva aprire il libro... E guardarlo... Io piangevo forte... Perché non era stato trovato nessuno... Degno di aprire... E di leggere il libro... E neppure di guardarlo... Allora... Uno degli anziani... Mi disse... Non piangere... Ecco... Il leone della tribù di Giuda... La radice di Davide... Ha vinto... Per aprire il libro... E sciogliere i suoi sette sigilli... Poi vidi... Ritto... In mezzo al trono... E ai quattro esseri viventi... E in mezzo agli anziani... Un agnello come ucciso... Alleluia... Il quale aveva sette corna e sette occhi... Che sono i sette spiriti di Dio... Mandati per tutta la terra... Egli venne e prese il libro... Dalla mano destra di colui che sedeva sul trono... Amén... Vedete... Quindi... Giovanni vide un agnello come ucciso... Dice... Che aveva... Sette corna e sette occhi... Che sono i sette spiriti di Dio... Mandati per tutta la terra... Vedete come effettivamente... Cioè... È la pienezza... Dello spirito di Dio... Amén... Che possiede Gesù... Che il Padre... Per mezzo di Gesù... Manda questa pienezza del suo spirito... Su tutta la terra... Amén... Alleluia... Per mezzo di Gesù... Quindi... Questo spirito... Come lo manda... Come farebbe a mandare... Questo spirito... Per tutta la terra... Ecco che il Signore ci ha spiegato... Come è formato... Lo spirito di Dio... Alleluia... Amén... Che effettivamente... Ecco... Si sprigionano da lui... Da Gesù... Diciamo... Queste particelle spirituali... Amén... Che... Si... Propagano... Diciamo... Nello spazio... E raggiungono... Diciamo... A secondo... Quello che... Lui... O meglio il Padre... Ha stabilito... Eh... E che per mezzo di lui... Ecco... Arriva... A... E... Investire... Non investire nel senso... Eh... Cattivo... Ecco... Per dire... Viene... Eh... Coperto... Quell'essere... Quella persona... Quel servitore di Dio... Amén... Oppure quella servente... Tant'è vero... Guardate... Se ci fate caso... Quante volte... Eh... Diciamo... I fratelli... Che il Signore ha dato questo compito... Ha affidato questo compito... Della preghiera... Eh... In modo tale che... I fratelli... E le sorelle... Che non hanno ricevuto ancora... Lo Spirito Santo... Diciamo... Eh... Preghino... E ricevono... Vedete come... In quel momento... Appunto... È... Da... Da Gesù... Che si sprigionano... Queste particelle spirituali... Allora... Amén... Che colpiscono... Diciamo... Dei fratelli... Dei sorelle che stanno pregando... E c'è chi parla in lingue... C'è chi interpreta... Sempre per lo Spirito Santo... Allora... Amén... E possibilmente... Contemporaneamente... Vengono suggellate... Più fratelli... Più sorelle... E parlano in lingua... Guardate... C'è chi fratelli... Sta parlando... Amén... Vedete come... Eh... Quindi si diffonde... Lo Spirito di Dio... Amén... Vedete come il Signore... Ci sta dando proprio... Eh... Da capire... Tutto questo meccanismo... Questo mistero... Allora... Amén... Celerò ai miei figlioli... Le cose... Che... Per noi... Dice il padre al figlio... Che per noi sono normalissime... Alleluia... Amén... Se noi li dobbiamo portare... Nei nuovi cieli... Nella nuova terra... E devono vivere con noi... Devono sapere queste cose... Gliele possiamo spiegare... Una volta che sono qua... Noi cominciamo a spiegargliele... Mentre loro si trovano ancora sulla terra... Allora... Amén... Glorie a Dio... Allora... Vedete come... E funziona... Perché... Vedete... Tante volte... Effettivamente... A meno a me... È successo... Che... Non adesso... Ma... Quando non conoscevo ancora tante cose... Che il Signore non mi aveva ancora ammaestrato... Non mi aveva fatto crescere... Perché... Anch'io... Fratelli... Sono partito dal nulla... Spiritualmente parlando... E piano piano... Il Signore mi sta facendo crescere... Mi sta facendo ammaestrato... Non ho raggiunto... Perché... Per raggiungere la perfezione... Non la raggiungeremo mai... La raggiungeremo... Quando saremo... Alla sua presenza... Quanto alla conoscenza... Perché... Infatti... Come dice l'Apostolo Paolo... Per ora... In parte... Conosciamo... E in parte... Profetizziamo... Amm? Quindi noi facciamo le cose... Una piccola parte... Amm? Perché... Noi dovremmo vivere... Ma non per... Completare il tutto... Ma... Dovremmo vivere migliaia di anni... Per poter... Crescere... Gradatamente... E capire sempre cose... Più profonde... E più complete... Che completano la nostra vita... Spirituale... Quindi... Sia glorificato il suo Santissimo nome... Che... Lui ci sta... Spiegando queste cose... In modo tale... Che... Quando sorgono... Perché vedete... Potrebbero sorgere... Dei pensieri... E... Tradursi poi... In dubbi... Eh? Se noi... Non abbiamo una certa conoscenza... Una certa preparazione spirituale... Perché può essere... L'avversario... O può essere... Per esempio... Un nostro pensiero... Dice... Ma... 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 Il signore... Ma... Chissà... Com'è... Qua... Allora... Uno... Allora... L'avversario magari ne approfitta... Dice... Si sta chiedendo... Oppure... Lui stesso che ce lo fa chiedere... Per... Eh... Farci capire che... Eh... Eh... Le cose... Eh... Sono impossibili... Quindi... Il Dio... Mente... Quando parla... Eh... Eh... Invece no... Vedete... Il Signore spiegandoci prima... Come stanno le cose... Allora... Quando sorge un pensiero... Oppure l'avversario... Eh... Viene per mettere... Eh... Un pensiero strano... Nella nostra mente... Noi... Grazie a quella preparazione... Da parte del Signore... Eh... Riusciamo a dare... La spiegazione... A me... Glorie a Dio... Allora... Perché effettivamente quanti... Eh... Guardate... Quanti... Eh... Nel mondo... Non credono nel Signore... Loro vorrebbero credere... Ma... Sapete perché non credono? Perché non riescono... A darsi una spiegazione... Di tante cose... Non riuscendo a darsi una spiegazione... A quelle date cose... Che loro vorrebbero sapere... Conoscere... Allora dice... Dio non esiste... Invece vedete... Il Signore... Per non farci arrivare lì... Per non creare confusione... In noi... Che cosa fa? Ci ammaestra... In modo tale... Dice... Aspetta... Perché quando... Per esempio... O... Che parte da te... O dall'avversario... Un pensiero strano... Tu già sei preparato... Conosci... E ti dai la spiegazione... A me... Gloria a Dio... Alleluia... Quindi vedete... Ecco perché... Quindi... E questo... Vedete... Eh... Sia glorificato... E Dio... Eh... Perché... Perché alcuni... Eh... Sempre di quelle... Per esempio... Del mondo... Ah... Sì... Ora il Signore... Parla con il... Se Dio esiste... Dio che è purissimo... Sì... Ora si mette con loro... A parlare... A fare... Che poi ci sono pure... Certe credenti che... Che parlano pure così... Ah sì... Ora il Signore... Signore... Eh... Ora si mette a spiegare queste cose... A questa... A quell'altra... No... Fratelli... Questo... Si è glorificato... E Dio... Perché appunto la gloria è di Dio... E di Gesù Cristo... Amè? Questo... Oggi... Può accadere... Perché... La... Eh... L'agnello... Ecco l'agnello di Dio... Che toglie il peccato dal mondo... Con la sua morte... Con il suo sangue sparso sulla croce... Anche per noi... Ci ha lavati... Purificati... Quindi... Questo... Ora... Può accadere... Amè? Senza nessun impedimento... Prima non poteva accadere... Prima del sacrificio di Cristo... Ma oggi... Dopo il sacrificio di Cristo... Tutto è possibile per il Dio... Ed infatti... Vedete... Eh... I sette spiriti di Dio... Dici... Mandati... Eh... Eh... Mandati per tutta la terra... Non potevano essere mandati prima... Perché quelli che li... Che li dovevamo ricevere... Dovevamo ricevere lo spirito di Dio... Amen... Eravamo allo stato impuro... Contaminato... Dal peccato... Oggi è possibile... Perché nel momento in cui... Uno crede... In Dio... Crede in Gesù... Ma crede col cuore... Allora... Diciamo... Quel fratello... Quella sorella... Quel credente... Viene... Subito lavato... Purificato... Con il sangue di Gesù Cristo... E quindi... Lo Spirito Santo... Può entrare in azione... Amen... Gloria all'Altissimo... Prima... Tanto è vero... Che i suggelli del Spirito Santo... Nel Vecchio Testamento... Non c'erano... Alleluia... Amen... Venivano... Ecco... I servitori di Dio... Venivano... Usati dal Signore... Attenzione... Dice... Ma... Allora... Nel Vecchio Testamento... Eh... Come che... I profeti... Non avevano lo Spirito Santo... Non parlavo lo Spirito Santo... Allora... Eh... In questo momento... Il Signore mi ha dato... Vedete... Contemporaneamente... Mentre... Io parlavo... Mi ha dato... La... La risposta... No... La risposta... La spiegazione... Amen... Grazie a Gesù... Allora... Sapete perché... Nel passato... I profeti... Ed anche tanti servitori di Dio... Eh... Potevano parlare... Eh... Con Dio... E Dio con loro... Dice... Eh... Eh... Gesù non era stato ancora... Eh... Sacrificato... È giusto? Amen... Eppure dice... Il Signore parlava... Come mai? E allora... Perché... Eh... Non... Non in tutti... Quindi come oggi... Perché oggi... Eh... Tutti i credenti che... Hanno chiesto... E continuano a chiedere al Signore... Di essere suggellati... Battezzati... Con lo Spirito Santo... Vengono battezzati... Ma una volta... Questo non avveniva... Amen... Perché... Perché... Lo Spirito Santo... Agiva soltanto... Nei servitori di Dio... Tanto profeti... O sacerdoti... O re... Dice... E perché... Che Gesù... Non era stato ancora... Sacrificato? Ve lo spiego subito... Perché il Signore me l'ha spiegato... Me l'ha fatto... Eh... Allora... Perché... Già nel giardino dell'Eden... Il Dio... Per poter parlare... Conno... La progenie di Adamo... E di Eva... Eh... Ha fatto il primo sacrificio... Nel giardino dell'Eden... Quando rivestì... Adamo ed Eva... Eh... Con le pelli... Quando gli fece... Al posto... Do vestito... Che si erano fatte... Adamo ed Eva... De foglie di figo... E il Signore invece... Li rivestì... Con delle pelli... Amen... Quindi... Allora... Vedete... Lì... Il Signore... Ha compiuto il primo sacrificio... Quindi... È come se... In quel momento... Fosse stato il sangue di Gesù... Aveva... In poche parole... Quel sangue... Aveva... Lo stesso valore... Effettivamente... Perché se non avesse avuto... Lo stesso valore... Non avrebbe potuto... Il Dio operare... Amen... Però era sempre... Un qualcosa di provvisorio... Amen... Quindi... Allora... Il Signore... Tanto è vero... Che... Vedete... Lui parlava... E... Pure... Seguite... Non solo... Non solo... Allora... Ma... Successivamente... Noi vediamo... Che... Anche... Per esempio... Noè... Noè... Non offrì... Sacrifici... E... Olocausti... All'Eterno... Al Signore... Vedete... Quindi... Perché... I sacrifici... Ci sono sempre stati... Praticamente... I figlioli di Dio... I sacrifici... Li hanno sempre fatti... Come per esempio... Melchisede... Che non era pure... Un sacerdote... Dio altissimo... Dice... No... Eh... Ma... Torniamo a Noè... Noè... Come poteva parlare... Perché... Loro... Vedete... I credenti... Il vero credente... Offriva sacrificio all'Eterno... Quindi... È come se... Quel sangue... Fosse stato... Il sangue di Gesù... Perché effettivamente... Era... Eh... L'elemento... Espiatorio... Va bene... Eh... In vista... Del... Sangue di Gesù... Che... Doveva poi... Eh... Entrare in azione... Sulla... Sulla croce... Sul Golgo... Da... Amen... Ecco... Giovanni Battista perché... Allora ha detto... Ecco l'agnello di Dio... Che toglie il peccato dal mondo... Perché quello che era prima... Era simbologo... Cristo è quello vero... Amen... Alleluia... Ecco perché vedete... Il Signore... Poteva parlare... Con i profeti... Con i sacerdoti... E... Guardate... Tanto è vero... Che i sacerdoti... Cioè... Che i re... E anche i sacerdoti... Venivano... Unti... Con dell'olio... Ma... L'unzione... Che ricevevano... Vedete... I re... O... E i profeti... Stessi... E... Prima... Loro avevano... Diciamo... Eh... Partecipato... Perché quando vedete... Eh... I sacerdoti offrivano... I sacrifici all'eterno... Non è che li offrivano i sacerdoti... Soltanto per loro stessi... Ma per tutta la nazione... Amen... Per dare quindi... La possibilità... Ai credenti... Di poter capire le cose di Dio... E a Dio... Di poter operare in loro... Perché purificati... Dal sangue degli animali... Che era... La figura... Del sangue di Cristo... Sono riuscito... Riesco a farmi capire... Non mi ha calato la testa... Solo perché... Poi mi farò contento... A me... A me... Vedete perché... Effettivamente... Ci sono stati sempre... Questi sacrifici... Di sangue... Eh... Per dare... Il Signore... La possibilità... A se stesso... Di poter intervenire... Alleluia... Ai credenti... Eh... Di poter capire... Di essere purificati... E allora... Sto piccolissimo esempio... Allora... Io... Chi hai? Io... Un cioccolato... Una cioccolata... No? Non cioccolatino... Se mi piace... Se non mi piace... O... 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 Allora... Non cioccolatino... No? Allora... Seguitemi attentamente... Io... Lo cioccolatino... Lo cioccolatino... Che... Allo stato... Che non ha... Diciamo... La... Non è confezionato... Per dire... E anche se fosse... Confezionato... Io... Giustamente... Per... Poterlo dare... A uno di voi... Che faccio? Ve lo do... Chi man lo oddi? Non solo... È in maleducazione... Ma è un antigenico... No? E allora... Quindi... Io ho già le mani pulite... E Dio ha le mani pulite... Sempre... Allora dice... Aspetta... Io per dare questo cioccolatino... Per esempio... A un altro... A qualcuno... Che cosa... Gli dico? Lavati le mani... Così ti do... Il cioccolatino... Se lui non si lava le mani... Io il cioccolatino non ce ne dobbiamo... Perché scusa... Se tu hai le mani sporche... Ma non sporche così... Poco... Che tu... Cosa... Contaminate... Mortali... Perché... Ecco... Vedete... Il peccato che c'era in noi... Nell'uomo... Era mortale... Amen... Quindi... L'impurità... Che possedeva l'uomo... Era mortale... Quindi bisognava... Che venisse lavato... Diciamo... Quel credente... Tanto maschio che femmina... Amen... Dalla sua... Sporcizia mortale... E allora... Questo vedete... Alleluia... Quindi il Signore... Per dare... Io buttai l'esempio... Per dare... Questo cioccolatino... No... Che... Che cosa faccio? Prima vi faccio lavare le mani... E poi ve lo do... E voi lo mettete in bocca... Se io non vi faccio lavare le mani... Non vi faccio... La cioccolatina... La cioccolatina... Che è pura... Diciamo... Però nelle vostre mani diventa... Infetta... Alleluia... Amen... Allora... Ecco... Ciò che Dio dava... Ai profeti... Ai sacerdoti... Lo poteva dare... Perché loro prima... Se lavavano... Noi mani... L'intero essere... Con il sangue... Della vittima... Di un agnello... A secondo quello che era... Allora... Il signore poteva dare... Il cioccolatino... Sono riuscito a far capire... I meccanini... Allora... Amen... Gloria all'Altissimo... Ecco perché il signore... Poteva parlare... Alleluia... Con loro... E loro potevano parlare... Con Dio... Allora... Infatti... Dove c'era il peccato... Il signore non parlava... E quindi... E neanche quelli che erano... Nel peccato... Potevano parlare... Con Dio... E gloria all'Altissimo... Alleluia... E infatti... Guardate... Anche qui... Quando voi venite all'unzione... Come dice... San Giacomo... Dice... Ecco... Che... L'anziano... Gli anziani... Perché... Gli anziani per dire... No... Chissà ci quanti anziani... Per dire... Gli anziani che hanno quindi... Questo compito... Ogni anziani... Insieme agli altri anziani... Non deve... Non vuol dire essere tutti assieme... Gli anziani... Per dire... Tutti quelli che hanno questo compito... Quando qualcuno sta male... Dice... Chiama... L'anziano... E questo dice... Prega... E se ha commesso dei peccati... Gli saranno rimessi... Perché gli saranno rimessi... Gli saranno rimessi... Prima il Signore deve togliere il peccato... Deve rimettere il peccato... Una volta rimesso il peccato... Tolto cioè il peccato... Allora... Lo Spirito Santo... Eh... A secondo... Ecco... In quel momento... Il tipo di malattia... Secondo quello che ha di bisogno... Quel fratello... Quella sorella... Allora... Lo Spirito Santo... Eh... Interviene... Sana... Guarisce... Libera... Alleluia... Amen... Gloria all'Altissimo... Vedete... E... Dice... Perché... E si ha commesso dei peccati... Perché li deve togliere i peccati... Tanto è vero... Che Gesù stesso... Eh... Diceva... Vai in pace... I tuoi peccati... Ti sono perdonati... Dice... Chi è costui... Che perdona i peccati... Soltanto è Dio... Dice... Ma chi è più giusto dire... I tuoi peccati ti sono rimessi... O... O... Dice... Vattene a casa... E si guari tu... Vedete... Che l'uno è legato all'altro... Alleluia... Allora... Oggi... Noi abbiamo... Questo vantaggio... Ecco... I tempi che si maturano... Eh... Perché... Eh... Allora... Eh... Vedete... Eh... Questi servitori di Dio... Dovevano parlare... Portare il messaggio da parte di Dio... I sacerdoti dovevano portare sia il messaggio di Dio... Che dovevano servire pure Dio... E stavano a servizio di Dio... Eh... E allora... In attesa... Che venisse... Gesù... Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato... Venuto l'agnello di Dio... Ecco... Vidi... Ritto in mezzo al trono... Agli esseri... Eh... Gli esseri venti e in mezzo agli anziani... Un agnello come ucciso... Il quale aveva sette corne e sette occhi... Che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra... Egli venne preso il libro dalla mano destra di colui che si doveva sul trono... Alleluia... Vedete... Anche lui... Per potersi accostare... Al padre... Eh... Seguite attentamente... Non a caso... Guardate... Gloria all'Altissimo... Potrebbe... E' scritto... Ecco... Vidi un agnello come ucciso... Poteva anche omettere sto... Sto particolare... Sto precisazione... Ma vidi... Un agnello come ucciso... Perché Gesù... Anche se... Venuto all'esistenza... Cioè se fatto uomo... Mediante seme divino... Però il corpo era umano... Quindi il suo sacrificio... Sulla croce... E' servito anche per il suo corpo... Perché il suo corpo... E' vissuto... In mezzo ai peccatori... Lui è stato contaminato... Il suo corpo veniva continuamente contaminato... Alleluia... Amen... Allora Giovanni... Vide un agnello come ucciso... E poiché... Tu sei stato ucciso... Quindi... Hai versato il tuo sangue... Anche per te... Ora... Puoi venire... Alla presenza del Padre... Lo puoi prendere... Il libro... Cioè il rotolo... E puoi sciogliere... I suoi... Legame lì... A me in gloria al Signore... Perché... E allora... E infatti dice... Puoi vede... In mezzo al trono... I quattro esseri viventi... In mezzo agli anziani... Un agnello come ucciso... Il quale aveva sette corna... E sette occhi... Che sono i sette spiriti di Dio... Mandati per tutta la terra... Egli venne... Alleluia... E prese il libro... Vedete... E prese il libro... Dalla mano destra... Di colui che sedeva sul trono... Alleluia... E quando ebbe preso il libro... I quattro esseri viventi... I ventiquattro anziani... Si prostrarono davanti all'agnello... Guardate come... Effettivamente... Gloria all'Altissimo... Il Signore pone enfasi proprio... Sull'agnello... Che è la radice di Davide... Poteva dire... Ecco venne il suo figliuolo... Avrebbe potuto dire... Ecco... Venne il suo figliuolo... E prese... Dalla mano destra del padre... No... L'agnello... Qui infatti... Fa risaltare... Alleluia... Al massimo... Il grande valore... L'indispensabilità... Del sacrificio di Cristo... Per lui... E per tutti... Lui come corpo umano... Alleluia... Amin... Perché vedete... Lui... Non è che... Lui aveva bisogno... Questo... Diciamo... Il sacrificio... Perché... Aveva commesso peccato... No... Ma perché era stato a contatto... Con gli uomini... Peccatori... Con il peccato... A contatto con il peccato... Amin... Gloria all'Altissimo... Allora... E guardate come effettivamente... E gli venne... Prese quindi il libro... E i 24 anziani... Dici... Si prostrano davanti all'agnello... Alleluia... E... Avendo ciascuno... Una cestra e delle coppe d'oro... Piene di profumi... Che sono le preghiere di santi... E cantavano... Un nuovo cantico... Dicendo... Tu sei degno... Di prendere il libro... Di aprire i sigilli... Ste legacce... Era una specie... Una specie... Una specie... Una specie... Che loro... Ogni... Vedete... Ogni parte... Di questo rotolo... Era legato... E come se un libro... Fosse... Sapete... Quando andavo a scuola... Io ora non lo so... Non lo so... Compravamo i libri... E poi... A casa li dovevamo tagliare... Con tagliacarta... Non lo so... Oggi... Non lo fanno... Eh... Erano... 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 Chiusi... Tra le loro... Eh... Allora... Si prendeva... Sto... Si prendeva... Diciamo... Sto libro... E si doveva mettere uno... A casa... No? Con tagliacarta... Oppure con un coltello... No? Andavano così... Zzzzzzzzzzzz... E lo sa... In poche parole... Sapete... Sapete cos'era? Sicuramente doveva essere questo... Che quando loro stampavano i libri... Stampavano su fogli di carta grandi... Poi... Queste fogli di carta... Grandi... Venivano piegate... per esempio in quattro, a secondo quindi poi li rilegavano in quella maniera però per distaccarli un foglio uno dall'altro bisognava tagliarlo questa cosa voi capite a me se siete vecchi come a me fuori contati questi figli non capiscono niente non sanno niente si è detto perché oggi se no hanno tutto il cammino alleluia quindi non sono più così i libri vero oggi? allora diciamo il libro, questo rotolo che era come, ecco portato l'esempio come quei fogli che si dovevano tagliare no? guarda questi qui questi libri si dovevano perché in poche parole questo libro, qua traduce libro tanto non è che c'erano i libri come sono ora noi abbiamo questa visione del libro in questa maniera invece allora erano rotoli erano un coduriale no? però vedete ogni era diviso questo rotolo tutta tutta l'apocalisse tutta l'apocalisse scritta era divisa in sette parti quindi e questa divisione l'uno dall'altro era praticamente ogni capitolo ogni cosa era legato quindi e infatti poi successivamente dice poi vedi quando l'agnello ha perso il primo dei sette sigilli vedete? alleluia amen alleluia quindi allora l'agnello dice sempre l'agnello perché non poteva vedete il signore manifestarsi al mondo non poteva manifestarsi neanche con Gesù stesso che si era fatto uomo che il padre stesso l'aveva fatto uomo amen l'ora di Dio perché appunto doveva ripeto purificare questo e infatti dopo se ci fate caso se vi ricordate seguite attentamente se vi ricordate attenzione perché anche questo è importante lo so può parlare perché c'è l'ongos tutto scusso però è importante almeno per me e allora praticamente se vi ricordate Gesù ha detto a Maria Maddalena non mi toccare perché non sono salito al padre amen vi ricordate che sta scritto qui perché le ha detto non mi toccare perché se tu mi tocchi rendi vano il sacrificio che io ho fatto sulla croce perché tu mi contavi non mi non mi toccare quindi non mi toccare perché non sono salito ancora al padre allora guardate grazie Gesù mi direte si fratello hai ragione però successivamente lo hanno toccato quando lui è ritornato perché vedete gloria a Dio lui intanto e questo vedete ci dimostra che effettivamente il suo corpo a causa degli altri che lo circondavano e lo toccavano era impuro cioè non proprio purissimo amén perché altrimenti non le avrebbe detto a Mario non mi toccare perché tanto dice mi può toccare sai ecco no questo vedete ci fa capire effettivamente che il sacrificio di Cristo è servito anche per lui perché la sua carne è stata purificata mediante il suo stesso sacrificio amén e allora e allora dice perché prima dice a Maria Maddalena non mi toccare e poi invece torna e si fa e si fa toccare perché dice a Tommaso tocca me dice tu che non ci credi dice tocca qui nel senso dei chiodi il costato e si ha fatto toccare perché ecco quello che il Signore mi ha dato da capire è stato questo perché guardate gloria all'altissimo abbachita la massia alleluia perché Gesù salendo al Padre con il corpo di carne purissimo purificato dal suo dal suo sacrificio ora può andare alla presenza del Padre perché è purissimo amén andando al Padre allora lui riveste ora l'incorruttibilità amén e riveste le sue caratteristiche primiere le riprende nuovamente ora Gesù salendo al Padre riceve riprende tutte le sue caratteristiche primiere quando lui era in spirito presso il Padre però senza un corpo di carne era soltanto come gli angeli amén ora Gesù non è solo come gli angeli amén ma ha anche un un corpo di carne più degli angeli amén però il suo corpo ora è diverso è completo tant'è vero che Giovanni quando lo vede dice cadde per terra come morto e lui dice mise la sua mano destra su di lui e gli disse non temere io sono il primo e l'ultimo l'alfa e l'omega io fui morto però dice sono ora vivente amén vedete quindi come lui ha riacquistato le sue caratteristiche e primiere allora fatto questo lui vedete ora possiede l'incorruttibilità in poche parole lui ora con gli apostoli può parlare perché anche se apparentemente ha lo stesso corpo di carne che gli apostoli conoscevano però gli dà la dimostrazione che apparentemente sembra lo stesso perché lui ha preso quella diciamo quella forma amén primiera però gli dimostra di entrare a porte chiuse amén quindi non era come prima vedete che ora era diverso Gesù aveva rivestito eh il suo vero corpo spirituale primiero ora entra a porte chiuse alleluia amén e così come lui ha questo potere ha ora questo potere alleluia di poter parlare ora anche con gli apostoli alleluia di potersi fare toccare perché effettivamente ora loro e ogni incredente essendo stato lavato e purificato alleluia può comparire davanti a lui perché ecco lui intanto ha ripeto con il sacrificio lavato e poi essendo lui ora rivestito della sua vera natura ecco anche se ci dovesse essere del peccato diciamo qualcosa di impuro viene subito purificato quell'essere amén alleluia viene subito purificato perché il suo corpo ora intiero come lo era prima che cosa fa quando lui si presenta dal suo corpo si sprigionano queste sue energie che lui purifica disinfetta sterilizza come volemmo chiamare amén quindi l'essere viene sterilizzato davanti a lui cosa che prima no perché non aveva ancora rivestito il suo corpo iniziale originale e quindi maria maddalena non lo poteva toccare perché lui non l'avrebbe potuto sterilizzare amén gloria all'altissimo invece una volta vedete andato al padre rivestito nuovamente il suo essere e ci dice a Tommaso toccami alleluia amén vedete fratelli da una frase da un versetto quello che il Signore ci ha dato da capire questa sera ecco tu sei degno e guardate che tutti lo ripetono in continuazione e i 24 anziani amén si prostrano e tu sei degno perché sei stato ucciso alleluia amén e gli venne e cazzo allora si prostrano e quando ebbero allora i quattro esseri viventi i 24 anziani si prostrano davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra delle coppie piene di profumi che sono le preghiere dei santi e cantavano un nuovo cantico dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato ucciso perché se tu non fossi stato ucciso tu non eri degno ma capite se tu non fossi stato ucciso tu non saresti stato degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli sei degno perché sei uguale purificato cosa che fico perché sei stato ucciso se non avesse avuto valore a che pro invece tu sei degno perché sei stato ucciso alleluia e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribolingua popolo e nazione quindi col tuo sangue ci hai purificato a tutti a chi sono in ta terra sotto terra in cielo da per tutto alleluia e ci hai fatto tra i sacerdoti per il nostro Dio e regneremo quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono agli esseri viventi e agli anziani alleluia amè il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di migliaia che dicevano a gran voce seguite attentamente che dicevano a gran voce degno gli angeli prima erano i quattro esseri viventi e i vento e quattro anziani ora sono gli angeli che dicono alleluia a gran voce degno è l'agnello che è stato ucciso vedete anche gli angeli dicono che Gesù è degno perché è stato ucciso alleluia di ricevere la potenza ecco vedete che Gesù ha ricevuto la la potenza le ricchezze la sapienza la forza l'onore la gloria la benedizione cioè quelle virtù che aveva prima perché è stato ucciso alleluia udì ancora ogni creatura perché per dire vedete perché allora poi udì anche ogni creatura che è nel cielo sulla terra sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in esse che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello pure quelle che sono in mare all'agnello vedete non dicono al figlio di Dio all'agnello per fare per non essere ancora pure loro ripetitivi per dire perché si è stato ucciso ma quando loro dicono l'agnello sottenteso ucciso alleluia a colui che si è sul trono e all'agnello siano la benedizione l'onore la gloria la forza nei secoli dei secoli e i quattro esseri viventi dicevano amen e i ventiquattro anziani si prostrarono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli alleluia amen e qui mi fermo perché il signore mi dice di fermare e come sempre insieme agli angeli diamo a lui l'onore la gloria la benedizione la forza e ogni cosa amen alleluia quindi al padre figliolo e allo spirito santo amen ora è sempre in eterno alleluia ma gloria gloria il 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 Signore del mondo, a mia salvezza, a mia presenza, il mio tesoro, a miei consomni e il perdono. Nella merce del corpo rispondi a chi lo aggia, che la bontà è che il suo riso e il peggio. Figlio da Dio, la pronte eterna della vita, il nome è grande, sto bene e vi ho. Grazie a tutti. 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 A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.